Assessora, questa mattina hai incontrato le donne in rete, l'associazione che si occupa del diritto delle donne di scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza. Quali sono gli impegni e i temi che si sono esposti? Sì, oggi ho avuto il piacere di incontrare donne attive dal punto di vista dell'impegno e portano avanti il diritto delle donne di poter scegliere e di abortire, quindi di interrompere la gravidanza. E questo è chiaramente un percorso personale molto particolare, però crediamo che sia effettivamente opportuno che all'ospedale riuniti anche ci siano medici non obiettori che quindi possano favorire e tutelare queste donne che scelgono liberamente di poter abortire. Abbiamo definito insieme un percorso, fatto presente che porterò anche ai tavoli della sanità questo tipo di impegno per far sì che chi entra come obiettore, come non obiettore, non possa cambiare in corso d'opera la propria scelta perché effettivamente non avremo più questi ginecologi che favoriscono e permettono l'interruzione della gravidanza. Parallelamente ci impegneremo a più livello sul nostro territorio anche perché magari dobbiamo controllare e monitorare l'attività degli consultori laddove sono presenti i medici che tutelano e soprattutto informano le donne nella loro scelta, aiutino nella piena libertà e nei pieni diritti delle donne stesse di continuare o meno la gravidanza. Maria Teresa Santelli, oggi l'incontro con l'assessora Rosa Barone, com'è andata? Benissimo, abbiamo trovato una risposta a quelli che sono i nostri obiettivi che sono finalizzati all'attuazione della legge 194-78 che è una legge di Stato e quindi dovrebbe essere attuata specialmente nelle strutture pubbliche. Finora invece resta sempre un problema che bisogna superare e sin dal 2016 come gruppo 194-78 dell'Associazione Donne in Rete abbiamo sempre monitorato la possibilità quale fosse la possibilità di attuare la legge di Stato negli ospedali riuniti di Foggia e indubbiamente abbiamo potuto riscontrare una perenne carenza sin da quando i due ginecologi non obiettori il dottor Zingariello e il dottor Conte sono andati in pensione nel 2018. In seguito infatti poteva praticare l'aborto soltanto una ginecologa che si è dichiarata obiettrice, non obiettrice e che in seguito poi è diventata obiettrice. Quindi ci sono stati momenti di vuoto assoluto bisogna cercare di riempire questi vuoti perché questa legge possa essere applicata.